Siamo stanchi delle ennesime bugie che arrivano da Palazzo Chigi. Ci avevano detto che il Presidente del Consiglio doveva venire a Caltanissetta per fare un giro istituzionale, per conoscere la realtà, per venirci a raccontare le cose. Avevano chiesto ai sindaci di venire in fascia tricolore per rappresentare il disagio di un territorio. E invece adesso scopriamo, questo è il messaggio che arriva dal Sindaco Ruvolo, che in verità il Presidente del Consiglio Renzi arriverà alla Sala Abate, non farà nessun incontro istituzionale, nessuno dei sindaci è tenuto a tenere il tricolore, quindi di fatto viene a fare una campagna elettorale per il sì. Siamo di fronte solo esclusivamente a questo, altro che problemi da risolvere. Ci saremmo aspettati una visita lungo le strade martoriate di Mussumeli, di Villalba, di Vallelunga, di Santa Caterina, di Marianopoli, di Resuttano, un territorio devastato dove lo Stato è completamente assente. E invece scopriamo che viene a fare campagna elettorale per il sì, a raccontare con le ennesime capacità imponitorie che qui vuole venire a prendere in giro un territorio. Noi siamo stanchi di tutto questo, di un patologico bugiardo, come dice l'onorevole Matteo Salvini, Presidente della Lega. E siamo stanchi anche e soprattutto di venire a vedere questi show, queste passerelle, questi elementi di antica politica che cerca di imbrogliare la gente che non porta nessuna soluzione. Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini a essere sul pezzo e a chiedere soluzioni ai problemi veri e a dire no al referendum.